Tu eri in Valencia, vedi una carta roda per Ibrahimović, cosa pensi di sospensione di due match? Non credo sia una carta roda, personalmente. Non credo sia che sia due match, ma questo è stato deciso e infortunatamente uno dei nostri migliori e i nostri migliori saranno da un gioco, che è molto importante per il club. È ovviamente assicurante, ma abbiamo giocatori qui possono vincere i giocatori per noi. Siamo bene, credo. Sei pronto per la Champions League match? Ovviamente sono molto felice e pronto, ovviamente. È un grande gioco per noi. Ma abbiamo fatto bene nel primo gioco, ma Valencia è una squadra molto buona, è una squadra pericolosa, quindi potrebbero venire e fare lo stesso per noi, quindi dobbiamo essere pronti.